Buonasera, una e un minuto, questa ultima edizione del nostro telegiornale comincia da Mosca. Oggi era la giornata della tradizionale conferenza stampa di Vladimir Putin, di fine anno, ha parlato per oltre quattro ore, si trovava al Cremlino, festeggiava anche l'anniversario della nascita dei servizi di sicurezza e proprio l'edificio dei servizi di sicurezza nella piazza della Lubianca, vicino al Cremlino, è stato preso di mira da un uomo che, armato di Kalashnikov, ha sparato ad un agente e ne ha feriti altri due prima di essere a sua volta fermato e ucciso. Vediamo. Colpi di arma da fuoco sparati a ripetizione rimbombano per le strade del centro di Mosca. Sono le sei del pomeriggio, ora locale. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo armato di Kalashnikov all'ingresso della sede dei servizi federali di sicurezza. Piazza Lubianca è vicino al Cremlino. Lo si intravede nei video girati da diversi testimoni e messi in rete. I proiettili feriscono a morte un agente del servizio di sicurezza che si trova all'ingresso del palazzo. L'assalitore, prima di fuggire, avrebbe ferito altri tre vigili. Due sono gravi. Poi viene raggiunto quasi subito dalle forze speciali che lo neutralizzano uccidendolo. L'intelligence russa indaga per terrorismo. La sparatoria avviene, dettaglio inquietante, nell'anniversario della nascita dell'FSB, i servizi segreti russi, erede del KGB sovietico. Mentre il presidente Putin teneva un discorso al Cremlino prima di un concerto in onore del servizio di sicurezza federale. La ricostruzione è ancora confusa. In un primo momento i media locali hanno parlato di tre attentatori, ma i servizi segreti smentiscono e parlano dell'azione di un uomo solo. Secondo alcune fonti, l'uomo sarebbe per un po' rimasto asserragliato all'interno di un edificio vicino al quartier generale. Anche questo smentito dai servizi. L'attentatore non è riuscito a entrare nell'edificio. Mentre la notizia rilanciata da alcuni media, secondo cui sulla scena sarebbe stata ritrovata una granata e uno zaino con il conseguente intervento degli artificieri, non ha ancora trovato conferma ufficiale. Vladimir Putin nel corso della sua lunga conferenza stampa ha parlato anche di una probabile riforma costituzionale che dia più potere al Parlamento, oltre che intervenire in difesa di Donald Trump che da oggi è ufficialmente in stato d'accusa. Il processo si svolgerà, lo sappiamo, al Senato nei prossimi mesi. Per quell'Ucraina, Gate ormai è famoso, anche se resta come un'ombra quell'altra vicenda, quella del Russia Gate, che appunto torna a coinvolgere Putin. Vediamo. Article 1 è adottato. Con 230 voti a favore e 197 contrari, passa il primo dei due capi di imputazione per l'impeachment di Donald Trump, abuso di potere, via libera anche alla seconda accusa, quella di ostruzione alle indagini del Congresso. Tutti i democratici, tranne uno nel primo voto e due nel secondo, hanno detto sì alla messa in stato d'accusa del Presidente degli Stati Uniti, così come è prevedibile che i repubblicani lo salveranno nel voto decisivo al Senato, dove possono contare su una maggioranza di tre seggi. Donald Trump passerà la storia come il terzo Presidente messo in stato d'accusa dopo Johnson nel lontano 1868 e Clinton nel 1998. Richard Nixon si dimise poco prima del voto. Ha violato la Costituzione e abusato dei suoi poteri per ottenere benefici politici personali a spese della sicurezza nazionale. Sono state le parole durissime della speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, destinataria poche ore prima di una lettera dai toni a dir poco scortesi, nella quale un Trump furibondola definiva una persona spregevole. E i toni non sono cambiati, dopo il via libera, l'incriminazione che Trump e i repubblicani considerano illegale un affronto per la stessa America. Nelle ore successive alla messa in stato d'accusa, Trump ha ricevuto un unico attestato di solidarietà, quello di Vladimir Putin, che nella conferenza stampa di fine anno definisce quelle contro Trump accuse inventate dai democratici per ribaltare il risultato delle elezioni del 2016. Voto che secondo gli avversari di entrambi sarebbe stato condizionato proprio da ingerenze russe, il famoso Russia Gate. Ma questa è un'altra storia. Donald Trump è stato citato da Matteo Salvini, che ha detto come Trump non rimpiango nulla. A proposito della vicenda della nave Gregoretti, tenuta a largo di Augusta in Sicilia per quattro giorni, per la quale è stata chiesta l'autorizzazione a procedere al Senato. Su questa vicenda sono entrati duramente in conflitto Salvini e l'ex alleato Di Maio, che nella precedente occasione invece votò contro l'autorizzazione a procedere. Palazzo Chigi smentisce seccamente Matteo Salvini, mai discusso del caso della nave Gregoretti. Come dire, quella decisione di tenere in mare per quattro giorni 131 persone non fu una decisione collettiva, ma solo dell'allora ministro dell'Interno, che adesso, con una eventuale autorizzazione a procedere, chiesta dal Tribunale di Catania, rischierebbe 15 anni di carcere per sequestro di persona. L'accusa è di aver impedito a fine del luglio scorso lo sbarco dei migranti a bordo di una nave militare italiana. La scelta della Giunta arriverà entro il 20 gennaio, poi ci saranno altri 30 giorni prima del voto definitivo del Senato. Nel frattempo Salvini, convinto di aver agito con il consenso di tutto il governo, parla di macchinazione politica. Io come Trump non rimpiango nulla, dice prima di lanciare l'attacco più forte, quello riservato proprio all'ex alleato Luigi Di Maio, che è un piccolo uomo, umanamente squallido. Ora fa la vittima, lo vedo impaurito, la replica di Di Maio pronto a distinguere tra questo caso e l'altro, quello della nave di Ciotti, agosto 2018, un anno prima, quando lui, Conte e Toninelli si autodenunciarono, schierandosi quella volta con Matteo Salvini. La cronaca Landrangheta nel Vibonese aveva rapporti con la politica, la massoneria, con gli ambienti dei professionisti. Lo ha svelato un'imponente operazione guidata dalla distrittuale antimafia del magistrato Gratteri, che ha portato in carcere 330 persone. Vediamo. Politici, imprenditori, massoneria, Andrangheta, nell'intreccio disarticolato oggi della DDA di Catanzaro, c'era anche un carabiniere. Il suo ruolo sarebbe stato quello di fornire soffiate sull'operazione in corso. Un'indagine gigantesca con oltre 400 persone coinvolte e più di 330 arresti che squarciano il velo su un sistema che teneva in pugno parte della Calabria grazie all'ipotizzata connivenza tra istituzioni e criminalità organizzata. Secondo i magistrati, un ruolo chiave della vicenda sarebbe stato ricoperto da Giancarlo Pittelli, iscritto alla massoneria ed ex parlamentare di Forza Italia. A lui i boss si sarebbero rivolti non solo per infiltrarsi in politica, ma anche per questioni meno istituzionali, come far passare l'esame alla figlia di un capo, un dranghettista, o favorire l'inserimento nell'organico del Policlinico Gemelli di un altro ragazzo legato alla malavita organizzata. A Pittelli avrebbe riferito di eventuali operazioni in corso il tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, rinchiuso adesso in un carcere militare. Ma Pittelli non è l'unico politico coinvolto in indagini, che dice il procuratore della DDA di Catanzaro Gatteri, svelano l'incredibile permeabilità delle istituzioni pubbliche al potere dell'andrangheta. In carcere c'è anche Gianluca Callipo, sindaco PD di Pizzo Calbro e presidente del Lanci regionale, ma nelle maglie dell'inchiesta anche un altro ex esponente di Margherita e Partito Democratico, l'ex consigliere regionale Pietro Giamborino. L'ultimo servizio di questa edizione termina qui, è quasi l'una e dieci minuti, come sempre domattina alle sette ricomincia l'informazione. Arrivederci, buonanotte.